E quindi al buon governo noi dobbiamo dedicare il massimo di attenzione. Scegliere chi ci governa è molto importante, lo dico invitando tutti a partecipare alle elezioni che si terranno, ai ballottaggi che si terranno nei prossimi giorni, domenica prossima, nel nostro Paese. Perché partecipare alla scelta di chi governa, avendo in mente il buon governo come valore fondamentale delle nostre città, è uno degli esercizi straordinari della democrazia e del civismo nel nostro Paese. Non ce lo dimentichiamo perché anche qui gli straordinari risultati che abbiamo avuto negli ultimi anni con l'elezione diretta dei sindaci sono stati molto importanti per l'avvenire delle nostre città ed è un valore che non dobbiamo e non vogliamo in alcun modo perdere.